Si pone bella, si giri nella mia, si pone bella, si giri nella mia, si pone bella, si giri nella mia, si pone bella. Carmine Sanginetto e la sua band a Belmonte Calvo per un ritorno alla sagra della pasta dei Ziti. Vero, vero, buonasera a tutti. Non siamo nuovi qui a Belmonte perché dopo tre o quattro anni, adesso non ricordo precisamente, siamo di nuovo qui con la band ed è un enorme piacere per me essere qui con questi magnifici musicisti. Alla tassiera al pianoforte il maestro Mattia Salemme, alla batteria Paolo Porco e al basso questa sera il nostro special guest Pasquale Cappellani. Il mio ringraziamento va alla Proloco di Belmonte perché è sempre pronta a queste manifestazioni, quindi venite a Belmonte, venite alla Proloco, venite alla sagra, alla pasta dei Ziti che quest'anno è arrivata alla 47esima edizione. Alla prossima! Il mio ringraziamento va alla prossima!